Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi vi propongo dei buonissimi pancake senza uova, senza zucchero e senza latte. Credetemi, sono buonissimi. Uno tira l'altro. Provateli per la vostra colazione o la merenda. Sana e veloce. E se li provate, mi raccomando, lasciatemi un commento. Una banana peso stimato circa 180 grammi, 50 ml di acqua naturale, 40 grammi di farina 00 di grano tenero, mezzo cucchiaino di lievito per dolci vanigliato e 20 grammi di gocce di cioccolato. Allora vi dico già subito le sostituzioni. Se volete potete sostituire la farina con un'altra tipologia di farina. Se volete potete sostituire l'acqua con il latte. L'unico consiglio che vi do, controllate la consistenza, perché l'acqua e la farina dipendono molto dalla consistenza della vostra banana. Se è matura, se è troppo matura, se è poco matura. Quindi versate l'acqua poco per volta e la farina e otterrete un composto davvero fantastico. Ovviamente padella ben calda, ungete la padella e fate cuocere i vostri pancake. Quando formano i classici buchetti, girate i pancake dall'altro lato e li fate cuocere anche dall'altro lato. Facili, veloci, ma soprattutto buonissimi, sani e veloci. Ciao, un bacio!